Quando una persona segue il sentiero spirituale avviene questa trasformazione interiore e le viene rivelata una realtà diversa, vera. Questa si chiama visione spirituale e le persone si chiedono come faccio a sapere che ho già questa visione spirituale? Sì, è una buona domanda. Possiamo rispondere a questa domanda in diversi modi. Ma possiamo anche rispondere in silenzio. E qui, nella risposta silenziosa, non ti capiranno se hanno una visione spirituale o se hanno un'illusione. Vogliamo provare? Proviamo. Grazie. Grazie. E in questa semplice risposta c'è la verità. Ognuno si darà la risposta giusta, sia che abbia una visione spirituale, sia che in lui imperversi il diavoletto che non accetta l'amore di Dio. e se una persona debba comunque lavorare su se stessa con impegno e perseveranza per domare prima il diavoletto e poi intraprendere il cammino spirituale. Anche se questo è un cammino spirituale, amici miei. Anche il primo passo per domare il demone dentro di sé, per domare la propria coscienza, è già un cammino verso Dio. E anche voi potete e dovete partire da lì. Sapete? A volte pensiamo troppo bene di noi stessi. Satana ci dice, sei così spirituale, percepisci, capisci, molte cose ti sono state rivelate. Ma quando incontriamo davvero la manifestazione di Dio, proviamo paura, brivido, odio. Ho una voce che dice, non senti davvero nulla. In questo caso, però, il diavolo parla di sé. Qui la cosa giusta da fare è distinguere chi sei, amico mio. Sei la personalità o sei uno schiavo di Satana? Sei un futuro angelo o sei uno schiavo eterno? La decisione spetta a te, amico mio. Solo a te. Nessuno ti suggerirà e nessuno prenderà la decisione al posto tuo, perché tu hai la libertà di scegliere e la decisione spetta a te. La decisione è come un sigillo. Vivere o morire. Ma sei proprio tu, amico mio, a mettere quel sigillo. Questo è il senso. Il significato della libertà che il Signore ci ha dato per grazia. E siamo noi a scendere. Grazie per la libertà, Igor Mikhailovich. Grazie per la sua generosità. E grazie per il fatto che le pietre cadono e noi ci conquistiamo davvero le ali. Sai, non c'è nessuno più misericordioso del Signore. È molto generoso con i Suoi figli. Questo è vero. In fondo, questo è proprio il vero amore. Il vero amore è quando tu condividi. Assolutamente sì. Quando tu stesso generi questo amore e vai per primo verso di esso. Questo è il punto. Quando tu ami. Quando ami veramente. Non con la tua mente. Non secondo i dettami di shaitan. Quando non pretendi nulla in cambio. Quando ami veramente. Quando sei un generatore di questo amore. Solo allora, amico mio. Riceverai in cambio il vero amore dal mondo spirituale. Che è talmente sconfinato. E ti mette davvero le ali. Per capire questo, dovresti sentirlo. Dovresti almeno incontrare una piccola goccia. che ti illumina semplicemente dall'interno. È la gioia e la felicità che ti riempie così tanto. Tutti sognano questo. Fin dall'infanzia. Anche gli atei. E fino all'ultimo respiro. Sognano che un'ala amorevole li copra. Che il respiro di Dio emerga in loro. Satana però si oppone a questo. E noi possiamo ottenere la vita semplicemente con la nostra scelta. Con la nostra sincerità e onestà. Liberandoci dalle paure e dalle schiavitù. Chiunque può realizzare questo sogno se si sforza davvero di farlo. Ma sul cammino, come sempre, è necessario fare uno sforzo. Fare un passo avanti. Condurre una sorta di rivalutazione dei valori. Guardare in modo sensato e onesto a tutto ciò che ci circonda. Soppesare i propri desideri e le proprie aspirazioni. E guardare con onestà. Poi tutto torna al suo posto. Sai, è interessante notare che quando una persona inizia a fare un'autentica esperienza spirituale capisce. Cominciano ad aprirsi davanti a lei verità che nessuno può capire quando è sotto il tallone di Satana. Perché? Perché quando siamo sotto il potere di Satana abbiamo tanti valori e tante cose. Quando invece una persona ottiene solo un po' di libertà capisce che nulla in questo mondo può essere paragonato o messo sullo stesso piano di un sorso di libertà. Anche un solo momento di amore di Dio è molto più prezioso che vivere in questo mondo, diciamo, essere coccolati e amati ma con un amore falso. Questo è il punto. Sapete, a volte mi fa pena. A volte mi fa sinceramente pena che Dio sia così misericordioso e giusto. Perché? Ve lo spiego. La libertà di scelta è sacra. Nessuno ha il diritto di violarla. Ma a volte vorrei, anche con coloro che sono davvero impantanati in questa palude di Satana e non riescono ad uscirne, vorrei condividere almeno un po' questo amore. voglio solo che una persona senta almeno un po' cos'è la vera vita dentro di sé in modo che questi paraocchi cadano. Sai, non sono nemmeno paraocchi, è un sacco sulla testa. Vorrei che cadesse in modo che una persona potesse vedere chiaramente, almeno per un momento, ciò che Dio dà e ciò in cui siamo impantanati nella vita di tutti i giorni, ciò che sogniamo, ciò che pensiamo e i valori che abbiamo qui, in questa illusione. Vorrei che ciò accadesse. Eppure, Dio non è solo misericordioso, ma è anche giusto. Lei ha detto bene che tutti cercano quella fonte. Sì. Ma purtroppo, o anche per fortuna, non è presente in quegli obiettivi esterni che una persona si pone, perché questi sono come un miraggio nel deserto, mentre interiormente dentro c'è l'oceano. Sai, hai ragione. Ma ecco quello che ho detto. Se diamo l'amore di Dio a una persona con la forza, la priviamo della possibilità di scegliere, perché è impossibile non scegliere l'amore di Dio dopo e quindi commetteremo una violenza e prenderemo una decisione al suo posto. Un essere umano deve maturare, maturare come personalità. Nonostante tutte le difficoltà, come abbiamo detto in uno dei nostri video, deve costringere anche Satana dentro di sé a inginocchiarsi davanti ad Allah. deve mettere Satana in ginocchio davanti a Dio stesso. Questo è il punto. È così che dovrebbe essere, amici. Non dovreste mettere in ginocchio qualcuno da qualche parte, ma costringere il vostro Satana, il vostro corpo e la vostra coscienza a rispettare Dio. non potete costringere Satana ad amare, ma potete costringerlo a rispettare. Allora, anche nella vostra testa, non sentirete un solo pensiero cattivo, perché non appena il diavolo apre la bocca contro ciò che è sacro, lo mettete in ginocchio davanti a Dio, finché la sua stoltezza non sparisce. Anche questo è un percorso. ed è quello che hanno fatto i grandi. Beh, è diverso. Quelli sono i grandi, mentre noi siamo persone semplici. Quindi anche solo imparare ad amare è già salvezza. Giusto? Ora non stiamo parlando di servizio, ma di salvezza. E qui la differenza è enorme. E qui è sempre più però passiamo a destare in modo paese passiamo a presto secondi devoir